Il progetto con i ragazzi dell'Istituto Nautico nasce dalla volontà della dirigente scolastica e abbiamo programmato insieme un percorso per la formazione del coro e dell'orchestra. Dobbiamo poi collegare questa prima parte con la seconda. Gli scambi, gli intervalli e gli accordi sono fondamentali. Tanto è vero che nell'arrangiamento che io ho scritto per voi, Caruso, gli strumentisti che arrivano in un momento piuttosto che in un altro. Con Rosi siamo riusciti a mettere insieme anche il coro delle docenti, quindi delle nostre colleghe. L'operazione del genfrego, la prima cosa importante, è quella di avere tutto in fretta. Quindi tutti gli equalizzatori, tutti i fighter, questi si chiamano fighter e devono essere tutti abbassati. Devo dire che è una bella squadra che si è formata e soprattutto i ragazzi sono molto contenti e soddisfatti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.